Milano. Riprendiamo da dove eravamo rimasti, dal lungo lago di Meina. Supergiro da 200 chilometri da Milano a Varallo Pombia, Arona, salita al San Carlone, Meina e poi ritorno a Milano. Da qui di fatto inizia il ritorno a Milano. Grazie a tutti. E questa è la nostra solita strada a Bordolago. Che spettacolo! Guarda che giardino! Ma è troppo bello! Finisce Meina e inizia Arona. E qui è dove prima... Siamo partiti per andare al San Carlone. E adesso invece torniamo ad Arona e poi a Milano. in mezzo. Sesto Calende. Andate a Parigi. 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 Ok Proprio? Proprio? Dai dai Proprio? Proprio? Siamo dritti? Teniamo una direzione? Hop! Cazzo! Cosa vuoi fare? Deciditi eh! Impara a guidare! E allora impara a guidare! Proprio? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, questo giro continua con un altro video. Ciao e alla prossima!